Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni a voi non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare. Io vi benedica e la Santa Vergine che protegga. Carissimi amici e amiche, una santa serata a tutti. Bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al catechismo romano del concilio di Trento. Abbiamo cominciato la parte, la trattazione della seconda parte relative ai sacramenti che rimarrà sempre di capitale importanza perché i sacramenti purtroppo oggi non sufficientemente ben vissuti e considerati sono di un'importanza fondamentale. Vedremo tante belle cose questa sera sicuramente. Il numero dei sacramenti, il discorso sui sacramenti che non sono tutti ugualmente necessari. È chiaro che ce ne sono alcuni più importanti e altri meno. Questo non significa che si possano trascurare senza colpo. Poi vedremo mano a mano che gli arriviamo alcune considerazioni di stretta attualità che evidentemente non potevano essere fatte nel 1500. Vedremo anche che Gesù Cristo è l'autore dei sacramenti. e speriamo di riuscire anche a vedere qualcosa sull'effetto dei sacramenti. Comincio subito la lettura in modo tale che non perdiamo tempo e cerchiamo di dare più corpo possibile a questa nostra conversazione. Il numero dei sacramenti è il numero 159 del catechismo romano. Bisogna spiegare anche il numero dei sacramenti. Tale cognizione riuscirà utile ai fedeli che con tanta maggiore pietà saranno indotti a lodare e magnificare la singolare bontà di Dio con tutta la potenza del cuore. Quanto più vedranno che sono numerosi gli aiuti a noi preparati da Dio per conseguire la salvezza e la vita beata. I sacramenti della Chiesa Cattolica sono sette, come approvato dalla scrittura, confermato dalla tradizione dei padri e attestato dall'autorità dei concili. Perché non siano né più né meno si può mostrare con plausibile argomentazione dall'analogia che esiste tra le situazioni della vita naturale e quella della vita soprannaturale. L'uomo infatti per cominciare la vita, conservarla e renderla utile per sé e per la società ha bisogno di 7 cose. Come individuo ha bisogno di nascere, crescere e alimentarsi, curarsi in caso di malattia, rafforzarsi in caso di debolezza. Come membro della società ha bisogno di essere governato dall'autorità dei magistrati che dovranno leggerlo e governarlo. E inoltre ha bisogno di conservare sé medesimo e tutta l'umana famiglia mediante la generazione della paura. Ora tutto questo risponde appieno anche alla vita spirituale dell'anima e qui appunto è riposta la ragione del numero settenario dei sacramenti. Qui è innanzitutto il battesimo, porta degli altri sacramenti per il quale rinasciamo a Cristo. Poi la confermazione. che ci accresce e irrobustisce nella grazia divina. Il Signore infatti come osserva Sant'Agostino disse agli apostoli già battezzati, trattenetevi in città finché non siate investiti di potenza dall'alto. Indi l'Eucaristia cibo che alimenta e sostiene il nostro spirito. Avendo detto il Signore la mia carne è davvero cibo e il mio sangue è davvero bevante. La penitenza restituisce la sanità perduta per le ferite del peccato. L'estrema emulsione cancella i residui del peccato e ricrea le forze dell'anima. Secondo la testimonianza di San Giacomo su questo punto se l'infermo si trova con dei peccati li saranno rimessi. L'ordine sacro dona la potestà di esercitare perennemente nella Chiesa il pubblico ministero dei sacramenti e compiere tutte le sacre funzioni. Da ultimo viene il matrimonio in virtù del quale dal legittimo e santo connubio dell'uomo e della donna sono procreati e religiosamente educati i figlioli al culto di Dio e alla conservazione del genere umano. Domanda. Ci avevate mai pensato a queste cose? Io sinceramente posso dire conosco il catechismo evidentemente nuovo della Chiesa Cattolica nella forma estesa e nella forma breve. Ho commentato il catechismo della dottrina cristiana di San Pio X, veramente non il catechismo maggiore, quindi mi manca questa piccola cosa. Può darsi che nel catechismo maggiore questa analogia ci sia, ma è veramente uno spettacolo, no? Perché i sacramenti sono sette? Perché corrispondono a livello spirituale esattamente a queste sette situazioni della vita naturale. Noi cresciamo, voglio dire, noi nasciamo e c'è un sacramento per la rinascita, il battesimo. Noi cresciamo, quindi dai non nati diventiamo uomini e c'è un sacramento che ti rafforza, ti corrobora, ti fa diventare uomo nella fede, che è la Cresi. Noi ci nutriamo tutti i giorni e c'è un sacramento che è destinato al nostro nutrimento, l'eucaristia. In caso di malattia, specialmente se è mortale, ci andiamo a curare e c'è un sacramento che serve a questo, che è la penitenza, che guarisce la malattia dell'anima, che sono i peccati veniali e i mortali. Se siamo infermi, se siamo deboli, andiamo a cercare qualche modo per corroborarci, no? C'è l'odio santo, il sacramento dell'unzione. Abbiamo bisogno di un'autorità che ci governi. L'anarchia non esiste, perché è semplicemente una cosa che non esiste. C'è bisogno di qualcuno che svolga le funzioni di governo. E nella Chiesa ci sono quelli che svolgono le funzioni di governo e ci amministrano i sacramenti, i membri della Sacra Gerarchia, quindi l'Ordine Sacro. Infine, ogni essere umano ha bisogno di perpetrare il genere umano, la razza, no? E per questo c'è un sacramento. Che è il matrimonio. Bello, no? Io sinceramente non ci avrei pensato. Avrei detto che il numero di il numero sette dei sacramenti, il sacro settenario è sempre un numero sacro, perché sette sono regioni della creazione, sette sono regioni dello Spirito Santo, sette sono i colori dell'iride, no? Ma questa analogia, peraltro altamente calzante, perché si basa su un principio fondamentalissimo, eh? E anche molto molto profondo a livello ontologico, cioè che la vita del corpo in qualche modo riverbera e riproduce ad esterno la vita dell'anima, che è un principio fondamentalissimo che si basa sul fatto che, secondo la sana dottrina, insegnata anche da San Tommaso e addirittura dal grande filosofo pagano Aristotele, l'anima è la forma del corpo, la forma sostanziale. Di per sé, come la vicenda della Madonna dimostra, e come l'orrore della morte indirettamente dimostra, la mia anima, la mia e la tua, è stata creata per essere sostanzialmente unita, si chiama il emorfismo, con un parolone tecnico, a questo corpo, questo, bello brutto che sia, pazienza, ma a questo. E quindi capiamo anche come tutto ciò che riguarda la corporeità sotto tutti i punti di vista, ha un riverbero sull'anima e viceversa. Quindi quelli che per esempio dicono, ah ma io non mi inginocchio davanti perché tanto io l'adoro col cuore al Signore, dicono una scemenza, tutti inginocchi perché l'inginocchiamento esprime nel corpo ciò che l'anima vuole fare e che non può fare senza lo scemenza del corpo. L'abito non fa il monaco, certo, ma lo manifesta. In base a come tu ti vesti e in base a come io prete mi vesto, io sto comunicando, sto manifestando me stesso, sto dicendo chi sono e anche chi voglio essere. Una donna che veste in maniera provocante cosa sta manifestando? Chi è? E soprattutto chi vuole essere. Vuole essere oggetto di desiderio per gli uomini. Vuole mostrare un'immagine di se io ho questo da darti. Ecco qui. Le mie grazie per essere desiderate. Quindi buon esercizio di desiderio. Piaccia o non piaccia? Questo è. Questo evidentemente manifesta un patrimonio interiore proprio molto entusiasmante, no? Una donna vestita santamente, oltre che essere espressione del cielo, sta dicendo io non sono il mio corpo. Io non mi presento come un oggetto di desiderio, io mi presento come una persona. È un'altra cosa. ho altre ricchezze, ho altri pregi, ho altre grazie che non un corpo da offrire per essere goduto e viceversa. Un po' diverso, no? Quindi teniamo presente questa bellissima analogia tra la vita naturale e la vita soprannaturale. Proprio insita nel numero stesso dei sacramenti. Numero 160. I sacramenti non sono tutti ugualmente necessari. Questo è vero. Importa sommamente notare che i sacramenti, pur avendo in sé un'amirabile virtù divina, non hanno però tutti una pari necessità e dignità né un solo e un medesimo significato. Vi faccio un esempio. Io, cioè, tutti e sette i sacramenti, sì, potrebbe succedere che una persona è sposata, muore una moglie e poi diventa prete. Eh, se no, potrebbe pure diventare escovo, perché è perso la moglie, eh? Tutti e sette i sacramenti non sempre si possono vivere, perché se uno si sposa non diventa prete. Se uno diventa prete non si sposa, per esempio, no? Le donne non vivranno mai, state tranquilli che non vivranno mai, è il sacramento dell'ordine. Quindi per le donne i sacramenti sono sei. Ce l'avete mai pensato. E per chi non si sposa diventano cinque. Quindi è chiaro che i sacramenti non sono tutti, sono tutti quanti di una dignità infinita, ma non tutti ugualmente necessari. Quindi, quali sono i più necessari di tutti? Tre di essi, si legge, sto riprendendo la lettura testuale, sono più necessari degli altri. Il battesimo è necessario a tutti senza eccezione, come ha dichiarato il Salvatore medesimo. Chi non rinascerà per acqua e per il Spirito Santo non può entrare nel Regno di Dio. Questo oggi ce lo stiamo dimenticando un po', eh? Il battesimo, ordinariamente, è necessario per la salvezza. Chi non rinasce da acqua e da Spirito non può entrare nel Regno di Dio. Andate in tutto il mondo e annunziate il Vangelo a tutte le creature, battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, chi crederà sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Noi non possiamo prendere queste parole di Domine Dio e fargli la glossa. perché il non poter escludere e il non dover escludere che chi senza colpa non avesse ricevuto il battesimo può raggiungere la salvezza eterna non cambia di una virgola la coggenza e l'urgenza di questo mandato né la serietà di queste parole. Ecco perché, per quanto mi riguarda, il più grave peccato contro lo Spirito Santo che si commette in questa società marcia di oggi è l'orrida e sacrilega e inqualificabile pratica dello sbattezzo. Vi prego, chi ascolta queste cose, se doveste conoscere qualcuno che sta pensando una cosa di questo genere diamo unirlo che ci pensasse bene perché io non ho la più pallida idea di quale penitenza si debba fare dopo aver commesso un peccato di questo genere. io non ce l'ho salvo il martirio uno sfregio del genere fatto alle sofferenze di nostro Signore perché tutto quello che ha passato in croce converge al 90% sul battesimo sto dicendo un numero che forse era anche di più perché la missione fondamentale della redenzione era togliere gli effetti nefasti del peccato originale bene, riprendo la lettura la penitenza è necessaria soltanto a coloro che dopo il battesimo sono caduti in qualche peccato mortale ma attenzione, essi non potranno sfuggire all'eterna dannazione se non avranno fatto legittima penitenza del peccato commesso altro che il sacramento della penitenza quindi la confessione correlativa a penitenza è anche qui la modalità ordinaria e obbligata attraverso cui un battezzato può ricevere il perdono delle colpe commesse di cui si sia pentito o poi l'ordine sacro infine è necessarissimo non solo ai singoli fedeli ma a tutta la chiesa e se guardiamo alla dignità l'eucaristia precede tutti gli altri per la santità il numero e la grandezza dei suoi misteri ciò si intenderà meglio spiegando al suo luogo quel che si riprese singoli sacramenti abbiamo capito bene che cosa ha detto quel concilio guardate che non ritiene l'eucaristia tra i tre sacramenti più necessari degli altri che che oggi se ne pensi il più alto è indignità non il più necessario perché 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 chi riceve l'eucaristia è già in grazia quindi di per sé è già salvo un bambino che viene battezzato e che muore prima dell'uso della ragione va in paradiso e almeno qui nella chiesa latina dove non c'è come la chiesa ortodossa il fatto che si può fare la prima comunione al giorno stesso del battesimo con un cucchiaino di vino consacrato quello l'eucaristia non l'ha ricevuta mai se non riceve il battesimo però che che ne dicano adesso in giro non ci va subito in paradiso perché il limbo che che ne dicano in molti dottoroni o presunti tali contemporanei esiste come vedete quando uno riflette bene se uno mi avesse chiesto quali sono i trassagamenti più necessari proviamo a fare questo gioco adesso lo sappiamo che avremo risposto abbiamo risposto così al battesimo penso che siamo tutti d'accordo forse la penitenza perché la penitenza attenzione se non ti confessi i peccati mortali potendo farlo ed essendone cosciente tu non ci vai in paradiso mettitelo bene in testa a chi rimetterete i peccati saranno rimessi a chi non li rimetterete resteranno rimessi sono sempre parole di Gesù che noi non ci possiamo prendere e metterceli in tasca e l'ordine esagro perché perché se c'è l'ordine esagro chi ti assolve dai peccati chi ordinariamente è il battesimo è vero che il battesimo in caso di necessità può essere dato da chiunque ma ordinariamente è dato da un ministro sacro in ogni caso l'assoluzione dei peccati non può essere data da nessuno se non da un ministro sacro nel grado del presbiterato un diacono non può assolvere dai peccati ok quindi questa è un'altra perla veramente da da incorniciare eh vedete mi avviso è una grande ricchezza studiare la pluralità dei catechismi perché ognuno ha degli aspetti evidentemente la ottiene sempre la stessa ma degli aspetti delle sfaccettature quindi le possibilità di approfondimento distinte e diversi dagli altri va beh questo penso che oggi sia un pezzo da 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 museo perché tanto questo è il catechismo romano del concilio di Trento quindi abbiamo quello nuovo basta e avanza quello nuovo non basta e non avanzi ma è saggia una cosa di questo genere io penso di no perché le ricchezze delle lezioni del passato vanno sempre custodite o no allora 161 Gesù Cristo è l'autore dei sacramenti bisogna poi esaminare da chi abbiamo ricevuto questi santi divini misteri già che il valore di un bel dono viene assai aumentato dall'eccellenza e dalla dignità del donatore o no la risposta è facile che ne so supponiamo io ho conosciuto qualcuno o sto rosario me l'ha dato il papa e l'ha benedetto lui insomma se c'è un rosario che te l'ha detto dal papa non è come quello che gli regalo io perché io non sono il papa o no se ci abbiamo la religione di un santo ci abbiamo la religione di un santo vabbè la risposta è facile essendo Dio la fonte della giustificazione degli uomini ed essendo i sacramenti i mirabili strumenti di questa giustificazione è evidente che noi dobbiamo riconoscere quest'unico e medesimo il Dio come autore in Cristo della giustificazione e dei sacramenti inoltre i sacramenti possiedono una forza efficace che penetra nell'interno dell'anima ora poiché appartiene esclusivamente a Dio penetrare nei cuori e nelle menti degli uomini nel secolo che Dio stesso è istituito per il tramite di Cristo i sacramenti come dobbiamo ritenere con fede certa e costante che è sempre Dio a dispensarne interiormente la virtù tale appunto è la testimonianza del Battista che dichiarava in proposito chi mandò me a battezzare in acqua quelli mi disse colui sul quale vedrai discendere fermarsi lo spirito è colui che battezza nello spirito santo a proposito di questo paragrafo chi disprezza i sacramenti chi trascure i sacramenti chi non frequenta i sacramenti chi disprezza in realtà chi disprezza c'è molta gente che non va a messa e dice ah io non ci vado non vado in chiesa perché mi stanno antipatici i preti ma se tu disprezzi i sacramenti io non disprezzi mica i preti i preti sono ministri amministratori di beni i sacramenti sono mica miei io li amministro non è roba mia e quindi chi disprezzi non frequentano i sacramenti disprezzi colui che li ha istituiti cioè domini di Dio e soprattutto oltre a disprezzare domini di Dio disprezzi disprezzi il prezzo dell'istituzione dei sacramenti perché tutti i sacramenti sgorgano come da sorgente come da fonte dalla croce di nostro Signore dalle sue pene dalle sue sofferenze che ha patito per noi non ti confessi lasci la tua anima lorda e balorda sporca e lurida dentro il peccato fetente puzzolente e in stato di dannazione perché così stava l'anima di un peccatore che se dovessi morire così il diavolo ti si è prendere se porta all'inferno non ti molla più tutta l'eternità il nostro Signore non vorrebbe questo c'è morto in croce per te ma tu quel sacramento lo devi ricevere lo devi utilizzare non lo devi vanificare ora 162 i ministri dei sacramenti e qui chiaramente ci sarà qualche accentuazione della polemica antiprotestante perché per i protestanti questo chiaramente è un catechismo contestualizzato no? è il concilio di Trento che ha combattuto contro la riforma protestante sapete bene che i protestanti riducono i sacramenti a due il battesimo l'eucaristia tra l'altro l'eucaristia è un mezzo sacramento perché per loro non è un sacramento reale perché non possono consagrare e il resto nisba e peraltro i sacramenti sono amministrati da chiunque dal cosiddetto pastore che non è altro che un laico che assume le funzioni di presiedere la comunità leggiamo Dio pur essendo l'autore e dispensatore dei sacramenti ha voluto che nella chiesa ne fossero ministri non gli angeli ma gli uomini la tradizione costante dei pari ci conferma che per produrre un sacramento oltre che alla materia e alla forma si richiede anche il ministro questi ministri mentre compiono quella data funzione non agiscono il nome proprio ma in persona di Cristo attenzione perciò siano essi buoni o cattivi purché adoperino la forma e la materia istituita da Cristo è sempre adoperata dalla chiesa cattolica e si propongono di fare quel che fa la chiesa amministrandoli producono e conferiscono veramente i sacramenti quindi nulla può impedire il frutto della grazia a meno che coloro che li dicevano vogliano da sé privarsi di un tanto bene e resistere allo Spirito Santo chi rifiuta i sacramenti di fatto resiste allo Spirito Santo oppone resistenza allo Spirito Santo perché impedisce il Spirito Santo di agire di raggiungerlo di agire di operare in lui questo è evidente questa è stata sempre la sentenza a certe costanze della chiesa come ha dimostrato chiaramente Sant'Agostino nel suo trattato contro i donatisti e se vogliamo argomenti strutturali li troviamo in queste parole dell'apostolo io ho piantato a pollo e rigato ma Dio ha fatto crescere di guisa che sono nulla colui che pianta e colui che riga ma solo lui che fa crescere da questo passo rileviamo che come gli alberi agli alberi non nuoci la malvagità di chi li ha coltivati così nessun male può derivare in coloro che sono stati innestati in Cristo da parte degli ministri perversi perciò come i santi padri ci insegnano spiegando il Vangelo di San Giovanni anche Giuda e Scariota battezzò molti e non leggiamo che alcuno di essi fosse ribattezzato ciò ha fatto scrivere a Santa Corsina queste parole mirabili Giuda ha battezzato e nessuno ha ribattezzato dopo di lui il battista ha battezzato e i suoi sono stati tutti ribattezzati perché il battesimo di Giuda anche se dato da Giuda era il battesimo di Cristo mentre quello del battista era del battista giustamente quindi noi anteponiamo non Giuda e Giovanni ma il battesimo di Cristo ha anche amministrato da Giuda a quello del battista anche se amministrato da lui in persona vedete la sapienza dei santi padri della chiesa ovviamente questo si chiama tecnicamente che i sacramenti operano ex opera operando funzionano ex opera operando cioè l'indegnità del ministro non toglie la validità dei sacramenti cioè se ti battezza a un ministro peccatore tu sei battezzato non devi essere ribattezzato se celebra una messa a un ministro peccatore tu sei andato a messa a domenica tu sei andato in più del precetto quello ha fatto la consagrazione il sacrificio si è compiuto tu ti fai la comunione senza nessuno se ti vai a confessare da un ministro indegno e lui ti assolve ti fai dire l'attivitore ti dà la penitenza il sacramento è valido ecco questo non deve far dimenticare però che pur essendo un sacramento valido per certi sacramenti vedi per esempio la confessione o anche la celebrazione della della messa c'è il problema della fruttuosità cioè se ti vai a battezzare se ti vai a confessare ad un sacerdote peccatore peccatore impenitente difficilmente riceverai una buona esultazione e delle buone indicazioni perché c'è una parte della confessione appunto la parola che dice il sacramento al penitente l'ufficio che lui svolge in confessionale in quanto maestro è che un maestro del nulla non lo assolve bene anche se il sacramento rimane valido le parole che dice il sacerdote non sono parte integrante essenziale del sacramento perché guardate che la confessione potrebbe essere fatta anche così è non lo del padre del figlio dello spirito santo prego dimmi i peccati ecco i peccati bene dirà tu di dolore a tu di dolore io assolvo i tuoi peccati questa è la penitenza fine della confessione fine se il sacerdote non dice manco mezza parola dopo la confessione la confessione è perfettamente valida perfettamente quindi il battesimo amministrato da giuda nessuno si è ribattezzato importante no? quelli i ribattezzati da san giovanni tutti i ribattezzati perché il battesimo di san giovanni era il battesimo di san giovanni il battesimo di giuda era il battesimo di cristo non per questo riprendono le letture i paroci e gli altri ministri dei sacramenti pensino udendo ciò che sia loro lecito vedete ecco non l'avevo letto ancora trascurare l'integrità dei costumi e la purezza del cuore limitandosi a osservare le rubriche nell'amministrazione dei sacramenti bisogna certo osservarle con diligenza ma non consistono in esse tutti gli obblighi relativi alla detta amministrazione dovranno sì sempre ricordare che i sacramenti non perdono mai la divina virtù insida in loro ma tale virtù può causare la morte e il danno eterno di chi li tratta con mani pure il prete peccatore che celebra la messa la messa è valida ma lui pecca mortalmente a fare una roba del genere le cose sante Giova ripeterlo più e più volte vanno trattate con santità e rispetto questo vale per tutti valgono per i ministri ma valgono anche per i riceventi le cose sante vanno trattate con santità e rispetto Dio ha detto al peccatore attraverso il salmista salmo 49 16 perché vai parlando dei miei statuti e hai sempre in patto il mio patto in bocca mentre tu odi il freno della legge ora si è interdetto al peccatore di parlare delle cose divine quanto maggior colpa commetterà chi pur essendo consapevole di molte iniquità non teme di compiere con la sua bocca contaminate i divini misteri di toccarli con le sue mani sozze di offrirli e amministrarli agli altri e si noti che San Dionigi ha scritto che non è permesso ai cattivi di toccare i simboli e questo è il nome che gli dà ai sacramenti perciò i ministri delle cose sacre cerchino anzitutto di acquistare la santità accedano puri ad amministrare i sacramenti essi esercitano nella pietà in guisa tale che dal frequente uso il ministero di essi ne derivi loro con l'aiuto di Dio una grazia sempre più abbondante perché che il ministro sia santo influisce primo sulla sua vita personale ma secondo da un punto di vista appunto di ricezione fruttuosa delle sacramenti anche sui testi natali vi siete mai chiesto perché questa gente che andava a sentirsi dalla messa di padre Pio non sono tutte uguali le messe sono tutte uguali o non sono tutte uguali da un punto di vista di validità sono tutte uguali tutte purché chiaramente il sacerdote non sia un matto usi il pane azimo il vino usi le parole della consagrazione quelle stabilite dalla chiesa che sono quelle di nostro signore Gesù Cristo e c'ha l'intenzione di fare quello che fa la chiesa ma che cosa ti lascia la celebrazione della messa di un santo come era padre Pio ti lascia qualcosa di più o no questi sono i motivi effetto effetto dei sacramenti la grazia santificante dopo si dovrà insegnare quali sono gli effetti dei sacramenti il che arregherà molta luce alla definizione dei sacramenti data più sopra questi effetti sono principalmente due prima anzitutto la grazia che secondo la terminologia dei dottori è detta santificante sacramenti produco la grazia e te la trasmetto l'apostolo è insegnato chiaramente scrivendo Cristo ha amato la chiesa e ha dato se stesso per lei al fine di santificarla purificandola con il lavaggio dell'acqua mediante la parola di vita come possa compiersi si grande mirabile portento per mezzo del sacramento come avvenga per citare il celebre detto di sant'agostino che l'acqua lava il corpo e tocchi il cuore è cosa che non si può comprendere con la ragione umana ma alla luce della fede sappiamo che nei sacramenti è riposta una virtù di Dio onnipotente per cui possono produrre ciò che le cose sensibili non potrebbero da sole e affinché nessun dubbio possa sussistere nell'anima dei fedeli Dio volle Dio clementissimo volle fin dal principio manifestare con miracoli l'effetto che i sacramenti producono all'interno questo perché noi con ferma fede credessimo che con tale effetto perfettamente si produce pur essendo così remoto dai sensi lasciamo il fatto che dopo il battesimo dell'edentore nel Giordano si aprirono i cieli e scese lo spirito santo in forma di colomba ok per significarci che viene infusa la sua grazia nell'anima quando veniamo battezzati al sacrofonte dico tralasciamo questo fatto perché si rivedisce più alla santificazione del battesimo che all'amministrazione di esso ma non leggiamo forse che nel giorno di Pentecoste quando gli apostoli ricevettero lo spirito santo che li rese più a lacri e forti a predicare la verità di fede a sfidare i pericoli per la gloria di Dio venne all'improvviso dal cielo un suono come se fosse elevato un vento cagliardo e apparvelo ad essi delle lingue distinte quasi di fuoco questo vuole significare che il sacramento della confermazione dona a noi il medesimo spirito e si accresce e ci accresce le forze per resistere alla carne al mondo e al demonio che sono i nostri eterni nemici all'alba della chiesa si sono frequentemente rinnovati i tali miracoli quando gli apostoli amministravano i sacramenti ma poi confermate e corroborata ormai la fede cessarono cessarono da quanto abbiamo esposto intorno alla grazia santificante e al primo effetto dei sacramenti si ricava chiaramente che i sacramenti della nuova legge hanno una virtù ben più insegne ed efficaci che non quelli dell'antica questi essendo deboli e poveri elementi santificavano quanto alla mondezza della carne ma non dell'anime perciò furono restituiti soltanto come simboli di quegli effetti che i nostri misteri dovevano produrre invece i sacramenti della nuova legge sgorgati dal costato di Cristo che per spirito santo offri se stesso immacolato a Dio mondano la nostra coscienza dalle opere di morte per farla servire al Dio vivente per questo che sono così importanti quindi operano in virtù del sangue di Cristo quella grazia che significano se dunque li paragoniamo agli antichi sacramenti li troviamo insieme più efficaci negli effetti più ubertosi nei frutti più augusti nella santità stupendo no? questi effetti meravigliosi dei sacramenti la grazia santificante che non poteva essere conferita da quelli dell'antica alleanza scusate non bisogna mai dubitare degli effetti dei sacramenti perché per confermarli l'episodio della Pentecoste è emblematico nostro signore ha mostrato esternamente alcune cose pensate per esempio anche voi nel corso della storia i miracoli eucaristici non sono stati quanti ne vogliamo con il più celebre in Italia sul miracolo di Bolsena il miracolo di Lanciano quello da cui deriva scusa il miracolo di Bolsena da cui deriva la forza la questa del corpus domini quello ancora più antico di Lanciano soltanto per citare i maggiori ma ce ne sono molti altri 25 in Italia quindi infine abbiamo altri due paragrafi l'effetto speciale di alcuni sacramenti e il rispetto e la frequenza dei sacramenti 164 165 leggiamo questi e poi mettiamo punto leggiamo e commentiamo altro effetto non però comune a tutti i sacramenti ma proprio solo di tre cioè il battesimo l'agresimo e l'ordine sacro è il carattere che essi imprimono nell'aria il carattere si chiama così tecnicamente quando l'apostolo scrive quando l'apostolo scrive Dio è colui che ci ha uniti e sigillati e infuso nel nostro cuore la capata dello spirito ha espresso chiaramente con le parole ci ha sigillati il sigillo il carattere il cui effetto peculiare è appunto quello di marcare contrassegnare un marchio un contrassegno il carattere è come un distintivo impresso nell'anima che non si può mai cancellare e vi rimane eternamente scolpito io il signore mi perdoni ma faccio sempre un paragone no è una sorta di tatuaggio spirituale quello che il tatuaggio fa sul corpo tatuaggio che non bisogna fare mi raccomando però paradossalmente ci trasmette una grande verità perché il tatuaggio non si toglie una volta fatto cioè se toglie il tatuaggio o gli al laser e le a scarnificazioni perché non è fatto in superficie quello è come se fosse un affresco perché va dentro quindi questo che una volta che uno è battezzato ha voglia a attentare perché si tratta di un attentato lo sbattezzo non è un fatto reale perché nessuno può essere sbattezzato la gravità la nefandezza di questo peccato l'ho detto prima è la volontà proprio perversa e cattiva è luciferina che questo atto manifesta ma lo sbattezzato diciamo così andrà all'inferno se non si pente e non lo so che penitenza possa fare col battesimo non c'è niente da fare io sono stato ordinato sacerdote sacerdote si rimane in eterno anche se un sacerdote lo posso dire passasse per tutte le bene canoniche possibili immaginabili quindi ti sospendono la divinis ti scommunicano addirittura ti riducono lo stato laicale quello rimane sempre sacerdote quindi evidentemente secondo la legge della chiesa non può esercitare il ministero gli è stato interdetto e proibito ma attenzione se un sacerdote in questo stato celebra un sacramento il sacramento è valido è lo stesso discorso di prima perché il carattere non glielo toglie nessuno di questo carattere Sant'Agostino ha scritto forse i sacramenti cristiani saranno meno efficaci del distintivo materiale che distingue il soldato quando un soldato ritorna alla minizia che aveva abbandonato non gli se ne imprime un altro ma si riconosce sia legittima l'antico il carattere produce due effetti rende atti a ricevere o compiere un dato ufficio sacro e distingue da coloro che non ne sono insegniti un battezzato non è la stessa cosa di un non battezzato facciamoci una ragione un prete non è la stessa cosa di un naico un cresimato non è la stessa cosa di un non cresimato questi sono i tre sacramenti che imprimano il carattere e questo non si possono ripetere in forza del carattere battesimale rileggo infatti siamo resi idonei a ricevere gli altri sacramenti e insieme ci distinguiamo come cristiani dagli infedeli un tempo si chiamavano così i non cristiani il medesimo si dica del carattere della cresima e dell'ordine sacro il primo ci arma e ci addestra come soldati di Cristo a confessare e difendere pubblicamente il suo nome a resistere al nemico che si cela in noi e agli spiriti maligni che sono nell'aria e nello stesso tempo ci distingue da solo i battezzati che sono come bambini nati da poco un sacramento importantissimo questo e infine l'ordine sacro dalla potestà di produrre e amministrare i sacramenti e insieme distingo chi ne ha insegnato dalla rimanente massa dei fedeli sapete gli slogan che si dicevano negli anni passati gli slogan piacioni o modernisti il prete è uno di noi cosa che adesso si riverberà anche in come si vestono i preti perché la maggioranza dei preti oggi si veste come i lanci pochi portano il cosiddetto clergyman che sembra che stanno a fare chissà che cosa quasi nessuno porta l'abito sacro cioè la veste talare perché? falsa umiltà figliore miei cari falsa umiltà e tra l'altro non solo falsa umiltà falso messaggio perché un prete non è come la rimanente massa dei fedeli non lo è ha dei poteri divini non sono suoi ma ce li ha ha le mani consacrate e gli altri non ce li hanno ha un potere che non erano nemmeno gli angeli del cielo gli angeli non possono celebrare la missa ma con la madonna può celebrare la missa o ha solo dei peccati ma stiamo scherzando sapete che il termine kleros da cui deriva il clero sapete che il praticatorio si chiama il clero sapete che si chiama kleros in greco separati separati non sei più come un laico non puoi vivere come un laico sotto nessun punto di vista togli di mettere bene in testa devi tenere di fare una ragione sia un ministro di Dio sia un ministro sacro e per tanto accettarsi la norma della chiesa accettarsi la norma della chiesa cattolica la qualità insegna in questi sacramenti prima il carattere non si possono ripetere infine rispetto e frequenza dei sacramenti questo è quanto si deve insegnare intorno ai sacramenti in generale trattando questo argomento i parroci si sforzeranno di ottenere soprattutto due cose prima che i fedeli comprendano di quanto onore culto e venerazione siano degni questi doni celesti e divini guai a chi non riconosce queste cose secondo che ne facciano un uso dei voti e più perché Dio ovviamente li ha istituiti per la salute di tutti e talmente si innamorino della perfezione cristiana la considerano come un danno il rimanere privi per qualche tempo specialmente dei due salutari sacramenti della penitenza dell'Eucharistia un danno innamorarci della perfezione cristiana ci potrebbe dare il titolo di questa catechesi innamorarci della perfezione cristiana siamo innamorati della perfezione cristiana non ci arriverai mai senza sacramenti voglio diventare santo e cosa devi fare la prima cosa prima del rosario sì sì prima del rosario prima della preghiera sì sì prima della preghiera impara a utilizzare bene i sacramenti che si possono ripetere cioè l'Eucharistia e la penitenza poi facilmente i paroci raggiungeranno lo scopo si ripeteranno spesso ai fedeli quanto abbiamo detto sopra intorno alla divinità e al frutto dei sacramenti che essi cioè per prima cosa sono stati istituti a Gesù Cristo nostro Redentore dal quale nulla può uscire che non sia perfettissimo secondo che quando si ricevono ci penetra fin nell'intimo del quale l'efficacissima grazia dello Spirito Santo e terzo che possiedono una virtù mirabile sicura nel curare le anime e quarto che per loro mezzo vengono a noi trasmesse le ricchezze immense della passione del Signore e quinto faranno da ultimo notare che pur essendo l'intero edificio cristiano basato sul saldissimo fondamento della pietra che è Cristo sarebbe assai da temerne la rovina se non fosse sostentato in ogni parte dalla predicazione della parola di Dio e dall'uso dei sacramenti infatti i sacramenti fanno nascere alla vita spirituale e forniscono quasi l'alimento per la nutrizione la conservazione e la crescita non ci sono parole per commentare quest'ultime veramente espluare e capolavori no i sacramenti sono qualcosa di meraviglioso dalla prossima volta cominciano la parte dedicata nel catechismo alla trattazione e all'approponimento di ogni singolo sacramento evidentemente a cominciare dal battesimo per ora direi che possiamo fermarci che Dio vi benedica e la santa vergine sempre vi protegga e la santa e la santa e la santa